ciao ragazzi oggi vediamo come argomento nuovo la struttura di alcuni verbi in inglese che hanno a seguire il to più infinitive quindi mi trovo a pagina 144 del vostro testo la 11b ci sono praticamente alcuni verbi in inglese che necessitano questo tipo di struttura se io voglio esprimere un verbo a seguire quindi ad esempio a parte con la lista che avete qua sul testo io ve ne metto qualcuno in più ecco da ricordarvi magari lo segnate sul vostro quaderno allora il primo che volevo dirvi sicuramente è agree agree vuol dire appunto andare d'accordo su qualcosa essere d'accordo su qualcosa tipo io posso dire i agreed to lend him some money vuol dire io ero d'accordo a prestargli dei soldi quindi i agreed to do something ok to lend him some money primo esempio secondo verbo sicuramente che vi vorrei far imparare refuse refuse vuol dire rifiutarsi di fare qualcosa anche lì se è seguito da un verbo il verbo che segue con il to la stessa struttura si ripete in tutti i verbi che vi dico quindi for example i refused to lend him some money the opposite ok quindi mi sono rifiutato di prestargli dei soldi altri verbi ancora decide decidere quindi i decided to run in the morning for example io ho deciso di correre di mattina ho ancora plan quindi pianificare di fare qualcosa so i planned to do something io ho pianificato di fare qualcosa ho ancora hope hope significa sperare quindi i hope to pass the exam for example io spero di passare l'esame quindi i hope to pass o ancora learn ancora imparare ad esempio how old were you when you learned to drive quanti anni avevi quando hai imparato a guidare quindi how old were you when you learned to drive sia che il verbo in questione sia al presente sia che sia al passato non cambia nulla c'è la struttura è sempre con il to e il verbo a seguire altri verbi ancora che vi vorrei fare imparare in questa lezione deserve deserve vuol dire meritare di è scritto deserve no quindi deserve so i deserved to do something mi sono meritato di fare qualcosa o ancora afford proprio scritto afford praticamente afford vuol dire permettersi di ad esempio posso dire i can't afford to pay the rent for example io non posso permettermi di pagare l'affitto invento qua una frase un esempio so i can't afford to pay the rent o ancora forget forget e dimenticare for example i forgot to do my homework yesterday mi sono dimenticato di fare i compiti ieri ok o ancora promise quindi promettere i promise to tell the truth for example prometto di dire la verità i promise to più infinito ok e ancora threaten threaten è scritto t h r e a t e n e significa minacciare quindi I threaten to do something minaccio di fare qualcosa e l'ultimo almeno ancora da da imparare sicuramente è fail fail fallire non riuscire a fare qualcosa so I failed to pass the exam ho fallito a passare l'esame quindi non sono riuscita a fare l'esame altri verbi che diciamo richiedono di solito questa struttura spesso sono seem che significa sembrare for example they seem to have plenty of money sembra che abbiano tanti soldi seem to have o ancora appear that is a synonym apparire ancora e ancora claim claim che significa state ancora quindi affermare e ancora pretend pretend significa fingere for example unpretended not to see me when I passed into the street for example qua io ho detto giustamente Anna ha fatto finta di non vedermi quando sono passata in strada no quindi unpretended not to see me eccetera eccetera quindi cosa abbiamo capito che tutti questi verbi qua che vi ho detto magari appunto li fate come lista poi magari ci sentiamo sulla chat per qualche esempio qualche esercizio eccetera hanno la struttura con il to più infinito per quanto riguarda la positiva ma anche se io devo mettere il verbo che segue al negativo la struttura è verbo cioè lei ha fatto finta di non vedermi il not lo metto praticamente tra il primo verbo e il to quindi questa diciamo è la struttura anche per quanto riguarda la negativa quindi io per oggi mi fermo qua avete qua gli esercizi vicino da fare a pagina 145 l'11 ba e l'11 bb tutti relativi a questo nuovo argomento che sono i verbs più il to più l'infinito poi per dubbi e quant'altro ripeto ci sentiamo sicuramente nella chat di gruppo so see you soon guys really miss you bye bye